Gianni Sperti, su Instagram spunta un messaggio che i fan non sanno proprio come interpretare, so tutta la verità Ma faccio finta di nulla. La corrente stagione di Uomini e Donne, che sta per volgere al termine, ci ha dato l'opportunità di conoscere un Gianni Sperti, in parte, inedito L'opinionista, che pur sembra mantenere le sue preferenze in studio, ha dimostrato svariate volte di aver cambiato idea su determinati protagonisti del dating show È accaduto di recente con Marcello Messina, che l'ex ballerino non ha esitato ad attaccare quando vi erano le condizioni per farlo Persino nei confronti di Mario Cusitore, suo pupillo, Sperti non ha esitato a riversare il proprio veleno D'altronde, quando si è scoperto che la segnalazione sul corteggiatore era fondata, prendere le sue parti sarebbe stato impossibile per tutti Eppure, secondo quanto ci rivela la sua stessa pagina Instagram, Sperti sarebbe a conoscenza di un segreto riguardante qualcuno di sua conoscenza Qualcuno che, se solo il collega di Tina Cipollari si decidesse a parlare, potrebbe andare incontro a serie problematiche La vera domanda è, si tratta di uno dei protagonisti di Uomini e Donne? Negli anni trascorsi a Uomini e Donne, Gianni Sperti è divenuto un volto popolarissimo del piccolo schermo Al punto tale che qualunque segnalazione che riguardi un membro del parterre, alla fine, finisce sempre per passare al vaglio dell'opinionista Il messaggio che l'ex ballerino ha postato nelle scorse ore su Instagram, però sembrerebbe di natura differente Sperti, nella storia in questione, parrebbe rivolgersi ad una specifica persona, ovviamente non menzionata Una persona che l'opinionista conoscerebbe da svariato tempo E che, a suo dire, non sarebbe sincera nei suoi confronti Mi fanno tenerezza quelle persone che dopo tanti anni continuano a mentire spudoratamente, senza immaginare che io so tutto ma continuo a far finta di nulla Questo è il messaggio, che più diretto non avrebbe potuto essere, che Sperti ha voluto far recapitare al mittente Ma la questione da cui siamo partiti, di fatto, rimane irrisolta Chi è la persona misteriosa caduta nel mirino di Sperti? Gianni Sperti, una persona mente ma lui continua a far finta di nulla, di chi si tratta? Che la persona che l'ex ballerino ha citato nella foto sia un partecipante, o una partecipante, di uomini e donne è estremamente improbabile Sappiamo bene, infatti, che quando Sperti ha anche soltanto il minimo sospetto su una dama o su un cavaliere, non esita a farlo presente davanti a tutti È verosimile, pertanto, che quanto descritto dall'ex ballerino sui social abbia come protagonista una persona che fa parte della quotidianità di Sperti E con la quale il pubblico, fino a prova contraria, non ha mai avuto a che fare Ma è solo l'opinionista del dating show, a conti fatti, a conoscere la verità sull'argomento